se vuoi raggiungere dei risultati, altrimenti vivrai una vita di merda fondamentalmente e continuerai a vivere una vita di merda, se ti fa piacere vivere una vita di merda, vivete una vita di merda Altro punto, la felicità va condivisa Quarto trucco, non puoi pensare che la felicità sia un qualcosa che devi tenere per te stesso o per te stessa in solitaria La felicità è qualcosa che devi imparare a condividere Bisogna abbandonare l'egocentrismo e tenere presente che la tua felicità, il tuo benessere impara a condividerlo con gli altri e questo ti darà una nuova visione, perché condividendo con gli altri potrai, diciamo, essere veramente te stessa, te stesso e rigioire anche della felicità degli altri Questo è un altro punto importante, non dobbiamo soltanto gioire della nostra felicità ma anche gioire e rigioire della felicità degli altri, soprattutto se siamo noi stati quelli che hanno dato felicità alle altre persone È un modo veramente molto importante per sviluppare la felicità Questo è molto importante Quinto punto, per essere felici devi sviluppare la tua cultura, la tua consapevolezza Certo, ci possono essere anche ignoranti, come dire, persone sicuramente analfabete felici ma diciamo che io credo che come esseri umani dobbiamo sviluppare la nostra cognitività Non si può vivere, secondo me, felici senza cultura, senza interessarsi, senza leggere senza avere passione per qualcosa che vada oltre il puro istinto Quindi impara a leggere, impara veramente a riapprezzare i libri, la lettura dei libri, la cultura, a interessarti, a studiare perché quello è veramente una forma di felicità, introiettare delle cose Oggi purtroppo io credo che soprattutto molti ragazzi hanno un po' perso o addirittura più che perso, non hanno mai avuto forse questo interesse per la cultura ma l'interesse per la cultura è quello che rende felici In un mondo di ignoranti, diciamo così, imparate se volete essere felici se volete essere seducenti, imparate ad apprezzare la cultura Questo è fondamentale Per questo video è tutto Ti ricordo di iscriverti ai miei canali YouTube Massimo Travasco, crescita personale con Massimo Travasco Felicità, benessere, amore, autostima Su ogni canale sono presenti degli abbonamenti Abbonarsi è facile, basta andare